La Passione di Cristo è rivissuta nelle strade del Centro Storico di Salerno. In occasione della quarta settimana di Quaresima si è tenuta la Via Crucis Vivente, organizzata dalle parrocchie di Sant'Agostino, Santissimo Crucifisso e Santa Lucia. Il percorso ha attraversato le strade del Centro Storico cittadino, partendo da Piazza Sant'Agostino per poi proseguire per il vicolo Masuccio Salernitano fino a Porta 9, Via dei Mercanti. Figuranti in costume hanno rappresentato la dolorosa salita di Cristo sul Monte Golgotha, la Passione del Cristo che culmina con la crocefissione. Stazione Quinta, Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Il rito vivente, intervallato da canti sacri e preghieri, è terminato alla quindicesima fermata con l'evento della Resurrezione, celebrato con la preghiera conclusiva del canto di Resurrezione.